Siamo in compagnia con Gilberto Muraro, Presidente della Fondazione Cariparo, qui in Comune di Adria, in ospiti della Sala Consiliare per parlare della politica di Mazzini, della attualità della politica di Mazzini. Presidente, io le chiedo cosa ha a che fare Mazzini con il nostro tempo? Domanda molto diffusa e molto giusta perché in effetti stiamo dimenticando Mazzini, ovvero lo ricordiamo come uno dei padri della patria che però non ha più nulla da dirsi, ne onoriamo la ricordo e con questo abbiamo chiuso. Invece io ritengo che sia ancora di attualità sotto molteplici aspetti, ne ricorderò alcuni nel mio intervento come la parità di genere, la spinta al movimento cooperativistico dove il capitale si unisce al lavoro evitando il dilemma tragico di sfruttare o di essere sfruttati e soprattutto l'idea dell'Europa come il padre delle patrie, credo che questo sia tra tanti il più illuminante dei pensieri politici di Mazzini, quello che ancora oggi ci può essere di guida.